Torna alla passerella delle stelle dello sport italiano. Domenica sera, nella cornice del Principino, sarà consegnato il 37esimo premio Viareggio Sport Gerardo Gioè, un'edizione che guarda il futuro con l'ingresso di nuovi partner strategici. Tanti big nazionali, tra questi Ferdinando De Giorgi, allenatore della squadra azzurra maschile di volley, Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna arbitro di Serie A, la straordinaria Nadia Bredice, campionessa paraolimpica di arrampicata, Massimiliano Farris, vice allenatore dell'Inter, e poi il campione Viareggio di tennis Gino Cerri, Marco Rossi, allenatore di calcio dell'Ungheria, e infine, ma non ultimo, il ritorno di Adriano Gagliani, oggi amministratore delegato del Monza, premiato come migliore società. Questi premi sono delle gratifiche che per gli atleti rappresentano più di quello che non si pensi, perché se i nostri premiati si muovono da tutta Italia per venire qua a trovarci, a ricevere un simbolo, un trofeo, quello che volete, ma etichettato premio Viareggio Sport, questo sta a significare che i valori dello sport sono ancora quelli, io gioco per vincere e quando vinco mi piace che mi diano un riconoscimento. Accanto alla storica partnership con BWLG entrano nella squadra organizzativa Bosch e Farmae, due giganti che sosterranno il futuro del premio Viareggio Sport. Abbiamo risposto sì al presente, alla richiesta di una partnership che guarda a lungo termine, non è soltanto per quest'anno, e non è soltanto un sostegno economico, ma più fattivo anche nell'organizzazione. Per noi il premio Viareggio è il premio del territorio a livello sportivo e a livello sociale. Come detto prima, vogliamo esserci perché la nostra presenza come banca del territorio è determinante, abbiamo sempre accompagnato da numerosi anni gli amici del premio Viareggio.